Benvenuti a Sicilia in Primer, siamo in compagnia del Presidente di Assovini. Le prime impressioni sulla conferenza stampa. Ci troviamo in questo meraviglioso posto che è il Terrasia Resort a Vulcano. Come sono iniziati i lavori? Sono iniziati nel miglior dei modi perché ieri sera abbiamo avuto un grande tramonto che sicuramente ha aiutato i giornalisti ad essere ben disposti. Oggi è una conferenza molto interessante con l'intervento del Professore Scienza che ha parlato delle radici storiche della nostra viticoltura ma anche di quello che è il futuro interessantissimo per tutta la nostra viticoltura. Una viticoltura in crescita che comunque valorizza sempre l'autotono, anche l'abbiamo sentito dalle parole del Professore. è in crescita anche la parte economica, soprattutto l'esportazione all'estero. Siamo sempre in crescita anche se siamo in qualche modo indietro rispetto ad altre parti d'Italia. Cosa si può fare per crescere anche repentinamente e restare a passo con le altre preziosità, gli altri vini autoctoni che abbiamo in Italia? Abbiamo un po' una Sicilia a due velocità nel mondo del vino. Quello che è importante è riuscire a far salire sul carro dei più veloci tante più aziende possibili e questo è quello che sta per fortuna avvenendo. Uno strumento futuro sicuramente di grande aiuto può essere quello della DOC Sicilia che deve servire per valorizzare il nome Sicilia, deve servire per portare il nome Sicilia in giro per il mondo e far poi crescere sempre più le DOC territoriali. Quindi la DOC Sicilia non farà d'ostacolo rispetto alle altre piccole DOC? La DOC Sicilia ha permesso alle DOC preesistenti di utilizzare in etichetta il nome Sicilia. Questo ha un grandissimo valore perché quello che più conoscono all'estero della nostra isola è il nome Sicilia e questo sicuramente contribuirà a valorizzare, a promuovere le piccole DOC territoriali che sono sicuramente con le loro produzioni uniche, inconfondibili, un valore inestimabile per tutti noi viticoltori siciliani.